Quarantena soft per il mondo del calcio, minore potere decisionale affidato alle ASL. Questo è quanto emerge dall'incontro avvenuto tra i vertici del Governo e i rappresentanti del mondo dello sport. La bozza che passerà al vaglio del CTS dopo la conferenza a Stato-Regioni prevede che all'interno dei gruppi squadra se i contagi superano a soglia il 35%, la partita sarà rinviata. In sostanza, su una rosa calcistica di 25 calciatori, sono ammessi fino a 8 calciatori positivi. Se il numero dovesse risultare più alto, si procederà per il rinvio della gara. L'espressione gruppo squadra sarebbe da leggere quindi senza l'inclusione dei Primavera. Un passaggio fondamentale è questo che cambia il protocollo finora osservato. In effetti, finora, con 13 calciatori non positivi a disposizione, si poteva giocare la partita. Cambia la questione della quarantena. Infatti, i cosiddetti contatti d'alto rischio adesso verranno sottoposti a tamponi antigenici giornalieri per almeno 5 giorni con l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 in tutti i contesti non sportivi. Una decisione questa che verrà assunta a prescindere dallo stato vaccinale dei singoli calciatori. Ovviamente, questo discorso si dovrebbe applicare anche agli altri campionati professionistici e al mondo del calcio. In effetti, la Serie B e la Lega Pro finora hanno preferito far slittare alcune giornate al proprio campionato per cercare di limitare il contagio tra club e per non alterare la regolarità dei campionati. Una misura assunta per evitare le polemiche come avvenute in Serie A, con le ASL pronte a bloccare interi gruppi squadra. Al tempo stesso, sul fronte degli stadi, anche la Serie B impone il limite di capienza consentita ai club di 5.000 spettatori per la diciannovesima giornata di andata e la prima giornata del girone di ritorno. Una decisione assunta per garantire maggiore sicurezza all'interno degli stadi. Discorso diverso per la Serie C, dove i vertici non si sono ancora espressi su eventuali limiti di capienza. Adesso si attende solo la conferma della ripresa della Lega Pro, prevista per il 23 gennaio, ma tutto dipenderà dalla curva epidemiologica tra i gruppi squadra, che al momento sembra essere in decrescita con tanti giocatori che stanno tornando ad allenare dopo lunghi periodi di isolamento.